Una delle storie più belle e romantiche del motociclismo mondiale una cosa che penso nessun pilota abbia mai fatto in tutta la sua carriera adesso vi spiego 1988, moto mondiale, classe 80cc e la griglia alla prima gara si compone di 32 piloti con dei nomi che hanno fatto la storia del nostro sport tra cui Jorge Martinez, Alex Crivillier, Peter Huttel e fra questi piloti, a 24 anni c'è Gabriele Gnani che si presenta con una moto totalmente autocostruita signori, erano altri tempi eh sì, perché una volta bastavano un motore, un telaio, due ruote, delle sospensioni per presentarsi in griglia e le difficoltà economiche hanno appunto portato Gabriele ad autocostruirsi tutto in casa per poter competere con i marchi molto più blasonati ma vi rendete conto? un ragazzino con il sogno nel cassetto come tanti altri di diventare pilota disponibilità economica è nulle ma la fame di arrivare lo spingono a progettare e costruire una moto tutta sua quanti ci hanno provato? alcuni sì, ma Gnani non scherza il suo miglior risultato fu infatti un secondo posto nell'89 a Misano concludendo il mondiale quell'anno in quinta posizione a causa di un infortunio perché prima di farsi male era terzo io l'ho conosciuto nel lontano 2010 quando facendo l'Europeo Alpe Adria con le mitiche 125 Sport Production mi vendette un pistone e fino a quando corso nel 2017 qualche lavoretto ce l'ha sempre fatto era tanti anni che non ci sentivamo e sentivo la necessità di raccontare questa storia meravigliosa oggi Gabriele, oltre a portare avanti lo sviluppo del suo 125 GP fa da consulente per alcune importanti aziende senza nessun titolo di studio nessuna laurea tutto imparato in maniera empirica questa è pura passione e dedizione per il motorsport ma vediamo come ha iniziato signori sono venuto a rompere le palle a casa di Gabriele Gnani Gabriele, io sono venuto a disturbarvi dopo tanti anni no assolutamente non è un disturbo, è un grande piacere perché come ti ho fatto una confidenza al telefono io ti ho detto ma questo patrimonio dove andrà a finire e volevo raccontare sul mio canale youtube questa per me storia alla quale sono super affezionato da dove è partito Gabriele Gnani cosa hai fatto? tu sei partito con le moto a giocare come penso tante persone e hai cominciato a smanettare con i motori infatti siamo venuti qui che questo è un soppalco del tuo capannone che penso che non ci salissi tu nemmeno da... questo in effetti è un soppalco che lo usava mio padre quando giocava con le moto d'epoca come vedete ci sono delle moto che non sono mie nel far sta roba ti ha riportato a un po' di ricordi e nello scoprire le cose c'è questa moto qua che mi hai raccontato che è la prima moto che ti hai usato per strada certamente questa qui è la prima moto che io la usavo da ragazzino a 14 anni 13 anni no anche senza età 13 perché all'epoca ci volevano 14 anni per poter girare ma noi a 13 già cominciavamo che in realtà adesso che ci penso è qui sopra perché è di mio padre questa me la comprò lui quando io a 18 anni dovevo cominciare a correre ed ero molto scarso a soldi decisi di venderla avevo già trovato l'acquirente il giorno che mio padre mi vide spolverarla metterla a posto mi disse ma dove devi andare con quella e lui dice no non vado da nessuna parte l'ho venduta deve venire un personaggio a prenderla la vendi dice mio padre assolutamente dice quanto ti dà il personaggio io la volevo vendere a 600.000 lire mio padre mi dice queste sono 800.000 la moto rimane qui questa è la mia e la comprò mio padre e quindi questa ufficialmente è sua questa era la sua moto questa era la mia moto che poi però hai usato tu e questo è stato mi hai raccontato prima brevemente che questo è il primo esemplare autocostruito certo perché Gnani famoso ai più appassionati perché si è autocostruito la moto cioè da dove viene il desiderio di autocostruirsi la moto è che non ci sono i soldi il problema di tutti i piloti non ci sono i soldi quindi cosa faccio mi costruisco la moto perché mi costa meno mi costava meno ti costava meno non c'erano più soldi per magari per mettersi una Honda non lo so magari c'era la Honda con i tempi derby alla Honda non c'era niente cioè a quell'epoca lì non c'era niente quindi te avevi un'idea te la facevi perché i motorini qui così sì c'è stato il periodo che c'erano ma non erano come li volevo io cioè non erano spartani quindi te lo dovevi fare punto te avevi un'idea noi siamo oggi in un'epoca dove c'è tutto di tutto hai bisogno di qualcosa lo compri lo compri perché c'è già e e se non è come vuoi ti adatti ma te lo compri così perché comunque hai tante soluzioni sì esattamente comunque bene o male ce ne sarà una che va vicino alla tua esigenza mentre ai tuoi tempi parliamo di 1980 primi 80 no prima allora io sono del 64 1964 a 13 anni io ho fatto questa quindi 1964 74 77 questa qui è nata nel 77 e poi passiamo alle corse cominci a 18 anni cominci a correre a 18 anni perché prima tuo babbo non voleva mio babbo non voleva perché pensava che era pericoloso insomma solite storie diciamo quindi insomma non era giusto correre io organizzai tutto da sottobanco chiaramente e al compimento dei 18 anni mi feci la licenza che mi spiegò un mio amico che conobbi l'anno prima un mio carissimo amico Angelo Zanetti non vedente ma lui aveva una moto da corsa anzi che poi mi dette da correre il primo anno perché io partì a costruirmi un cinquantino perché questa ovviamente non era buona questa qui era c'è un Minarelli 6 mar c'è una moto diciamo da strada invece là ci voleva una moto da corsa vera e quindi cominciai a costruirmela ma non feci in tempo perché ci voleva tempo lui ne aveva una e me la prestò e quindi io venne fuori con con questa licenza e con questa moto da corsa prestata dal mio amico che fu molto traumatico perché perché tra l'altro la prima gara che feci feci schifo vendo tutto basta non è il mio mestiere ma qua ma no ma non ce la posso fare ma qua vanno troppo forte allora io andai a fare la mia prima gara senza avere mai guidato una moto da corsa e ne girati in una pista cioè non è come adesso che te vai a girare prima ti alleni mini moto mica mini moto cioè non era così io praticamente decisi di andare a fare la prima gara che era Magione non mi ricordo la data la prima gara di Camerati Italiano Junior perché all'epoca c'erano le licenze Junior Junior Nazionale e Senior c'erano tre scalini io decisi di andare a fare la prima gara senza avere mai provato una moto e mai provato una pista quindi insomma non so se tu riesci a immaginare un po' la storia ci provo no no ci provo io ero sicuro perché mi sentivo di andare fortissimo perché cioè con sta roba qui girare per la strada insomma a parte il pericolo a parte tutto ma in realtà sembrava andare forte arrivai a Magione un autodromo qua a Perugia ecco lo conosci arrivo là al venerdì allora già è stato traumatico perché praticamente mio padre quando seppe tutto due giorni prima un altro paio mi caccia fuori di casa tanto per incominciare quindi io andai a correre sapendo che forse quando tornavo a casa non avevo più un letto da dormire né una casa siamo partiti sono arrivato a Magione comincio a girare al venerdì c'era poca gente cazzo mi sembrava di volare quando sono arrivati quelli della gara ero rovinato perché mi sembrava di non andare a un cazzo quindi al venerdì sera già il morale il morale si era un attimo abbassato perché dico ma Dio boh ma questi qua mi sembrava davvero cioè io che cazzo faccio qua rimasi male alla sabato mattina prova ufficiali primo turno di prove secondo turno di prove ventunesimo tempo ne prendevano 20 rimasi fuori dai tempi e si va a casa si va a casa cioè qui non si corre non sono riuscito a qualificarmi però ero la prima riserva perché all'epoca c'erano due riserve funzionava così a Maggione nel corto si partiva in 20 uno gli viene il raffreddore l'hanno rapito che cazzo ne so alla mattina non si presenta c'erano due riserve io ero la prima riserve quindi non sono potuto neanche venire a casa ma ti dico la verità non speravo neanche di rientrare nella riserva perché a quel punto lì non me ne fregava un cazzo il mio morale non era calato era morto punto quindi dico qui è meglio morire di fatti tutta la notte andammo a dormire perché all'epoca non avevo un camion un camper non avevo un cazzo come cazzo sei andato siamo andati col gancio di traino con un mio carissimo amico Mauro Valli che faceva la TT4 correva anche lui avevamo un carrello avevamo caricato sto carrello tipo zingaro tipo zingari e siamo andati ah ma una volta era così e siamo andati a Maggione e ancora così per qualcuno siamo andati a Maggione alla sera io Angelo e siamo andati a dormire in un alberghetto lì vicino e io mi ricordo che piansi tutta la notte dalla disperazione anzi andai a letto vestito non andai neanche sotto gli lenzuoli sopra il letto vestito non mi tolsi neanche le scarpe e piangevo e Angelo mi diceva no ma stai calmo io lo sapevo che io lo sapevo che andava così perché è normale e io gli dicevo ma sei deficiente che cazzo mi hai portato qua a fare io sono rovinato adesso non ho più mi si è infranto il sogno non ho più una famiglia non ho più un cazzo mio babbo non mi mora sono venuto via da casa sono venuto via da casa sono rovinato no stai calmo stai calmo domenica ho guardato il mio amico correre c'erano tutti quindi io non sono partito come riserva e dalla sera me ne sono venuto a casa fine della mia carriera ho detto Angelo è stato bellissimo è stato bellissimo ma non parliamone più di moto basta finito io avevo una vecchia passione di quando avevo dieci anni andare a pescare con la canna che anche lì mi facevo le canne galleggianti cioè non è che compravo facevo quindi dico quindi la passione di smanettare c'è sempre stata poi è stata sulle moto ma su tutto è cambiato il settore ma la passione quindi canne galleggianti mi facevo dico io continuo con la mia vecchia passione vado a pescare punto a un certo punto lui mi è stato dietro lui faceva il centralinista in una banca all'epoca mi telefonava tutti i giorni dai allora ti sei calmato Angelo basta finito Angelo 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 poi sai dopo una settimana ti cominci in attimo a calmare ragioni ragioni e dico cazzo però allora non mi ero mai allenato non mi ero mai provato non mi ero mai provato avevo il cambio a sinistra a destra mi devo dare una seconda opportunità allora il cambio a destra mi ha comportato un grosso problema sto derby aveva il cambio a destra io ho sempre girato quelle moto col cambio a sinistra questo qua pensando ci dico cazzo un secondo forse col cambio giusto l'avrei fatto un secondo là forse l'avrei fatto un altro secondo là dico porca troia ormai ormai siamo a mollo in casa mi avevano ripreso a dormire e a dare da mangiare quindi alla fine mio padre insomma se era bello impastato dico ascolta Angelo proviamo ancora facciamo una bella roba facciamo un'altra prova seconda gara sempre a Magione un mese dopo roba del genere faccio la modifica nella moto porto il cambio a sinistra con dei leveraggi perché il motore aveva l'uscita solo a destra quindi faccio pieno del telaio tutto quanto sempre senza andare a provare in un'altra pista perché in un'altra pista però avevi già provato Magione però avevi già provato Magione quindi avevo un ricordo andiamo a Magione una seconda volta già l'impatto è stato totalmente diverso perché io conoscevo già sta pista perché da arrivare là la prima volta alla seconda c'è una differenza come dal giorno alla notte entro dentro tutto più rilasciato in effetti va tutto meglio in effetti mi sento molto meglio insomma fu una scelta giusta faccio l'undicesimo tempo cazzo per me sono a cavallo dei dieci perfetto era perfetto io io fui felicissimo ci sono anch'io fui felicissimo a un certo punto in gara partiamo in gara pronti via faccio tutta la gara in lotta fra il quinto e il sesto posto con un tale carissimo mio amico si chiamava Di Giovanni ma lui lui era un pezzo che correva lui aveva più esperienza questo era un pilota vero io era la prima volta quindi faccio tutta la gara con lui chiaramente lui arriva quinto io sesto perché ci sta perché lui lui era più capace di me e quindi niente io toccai il cielo con un dito per me era come aver vinto il mondiale quindi ripresi a mano tutto il mio sogno che avevo accantonato accantonato e quindi dopo di lì è stato tutto 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 è stato tutto tutto bello terza gara pole position quarta gara insomma praticamente dopo dopo si lottava per i primi tre tutte le gare capito dopo andammo a Varano Vallelunga c'erano c'erano tanti posti chiaramente sempre senza mai andare a girare a casa allenamenti niente a quell'epoca lì si andava secco alle gare punto si faceva così era così la storia e quello è stato l'inizio quindi gabriel questa è quella che che non ha mai corso facevo l'idiota per strada la prima ce l'hai raccontata ma di là ci sono tutte le moto con le quali hai corso quelle vere quindi adesso andiamo di là che me le fai vedere perfetto quindi qua mi hai già accennato che c'era un po' di casino purtroppo perché abbiamo avuto un piccolo problema abbiamo avuto è bravo abbiamo avuto un problemino tecnico edilizio quindi hai giustamente dovuto coprire le moto qualcuna l'abbiamo scoperta qua c'è una scala temporale importante mi sembra di vedere di motociclette sì alcune quelle che ci stavano perché poi ce ne sono tante smontate questa è stata la prima questa è la primissima con la quale hai corso con la quale ho corso quel racconto che ti facevo prima di Magione cilindrate 50 questo è un 50 dopodiché la federazione tolse la categoria 50 prima che io finissi quel famoso motore moto che mi stavo costruendo quindi l'autocostruzione parte da subito io devo farmi tutto sì l'autocostruzione è partita dal 50 progetto abortito perché progetto non finito non concluso non ho mai acceso quel motore perché quell'inverno lì passò la categoria da 50 a 80 quindi dovete cominciare a costruirmi negli ultimi 40 anni non l'hai mai chiuso non l'hai mai finito no è rimasto lì è rimasto lì quindi passiamo a 80 passiamo a 80 questo in realtà come siamo passati a 80 non c'era tempo per costruirne una sono partito subito ma il tempo non c'era quindi sempre il mio amico Angelo Zanetti mi comprò una moto l'usuardi da Claudio l'usuardi di Modena che era un pilota dell'epoca che si era messo a fare delle moto ne fece 3 o 4 e quindi Angelo mi comprò una moto di quelle là per farmi correre ci corsi arrivai secondo nel campionato italiano ero state in lista fino all'ultima gara per vincerlo ma poi non lo vinci perché caddi a Vallelunga due volte nella stessa gara la seconda volta la variante stampato contro la montagna fine del campionato italiano vabbè comunque secondo arrivai dopodiché vennero pronte nell'85 la mia moto 80 vera con la quale poi ho decollato nel mondiale questa non è non è quella dell'85 qua c'è quella del mondiale questa questa è l'ultimissima del mondiale del mondiale le altre sono tutte smontate a pezzi messe via allora io tutte le moto che ho costruito le ho tutte qua dentro tranne una che l'ha detto il mio carissimo amico morto all'epoca una storia infinita ma tutte le moto sono qui dentro molte non sono montate perché a quell'epoca qui io compravo tantissima roba ruote sospensioni forcelle quindi tu facevi fondamentalmente il motore il telaio io facevo il motore il telaio e dalla moto vecchia dovevo togliere tutte queste robe perché costavano la forcella dell'anno prima la forcella dell'anno prima bravissimo le pinze le pompe tutto andava dall'anno dopo quindi tutto finiva smontato e messo via in delle casse che sono qua dietro tutto ordinato tutto oliato che fra 300 anni io se voglio le rimonto tutte per guardare quante ne ho fatte non chiedermi adesso quante moto ho fatto e quanti tipi ne ho fatte perché non mi ricordo non mi ricordo poi però arriva un anno in cui nel mondiale tolgono la 50 e la 80 arriva l'anno nell'89 che tu devi passare a 125 certamente quindi nel 189 io ero iscritto al mondiale 80 e 125 e nell'89 avevo già fatto la mia prima 125 da mondiale che è questa no questa non è la prima questa è l'ultima perché la prima è sempre finita smontata messa via questa questa diciamo è l'ultima 1991 praticamente nel 1989 io ero iscritto al mondiale 125 e 80 a un certo punto a metà stagione ero terzo nel mondiale 80 la 125 non andava benissimo perché era una moto nuova era da sviluppare da fare mi stava togliendo troppo tempo ti stava distraendo mi stava distraendo dall'obiettivo quindi decisi di abbandonare la 125 a metà stagione e di concentrarmi sull'80 per vedere di vincere sto cazzo di mondiale perché perché come ti ho detto io sono partito che volevo diventare campione del mondo quindi Gabriele Gnani nasce pilota con la voglia di correre e vincere il mondiale come è il sogno che hanno tutti i piloti l'autocostruirci una moto è sicuramente una passione perché hai smanettato sempre su qualsiasi cosa però è stato uno strumento l'autocostruirsi perché non c'erano i soldi perché non c'erano i soldi e per poter avere quello che volevo io e quindi abbandonai il progetto 125 per dedicarmi solo all'80 poi ebbi un incidente ad Aschen caddi mi rupi tutti i due i piedi una spalla insomma che mi comportò diciamo persi la terza posizione nel mondiale insomma alla fine della fiera arrivai quinto quell'anno lì buono torsero la 80 quindi l'anno dopo c'era solo 125 quindi di lì dopo è partito tutto nel discorso 125 ma nella 125 durò un anno su allora io avevo la moto che era rimasta quella del 1990 perché l'abbandonai lì quindi era un'80 col motore 125 no le prime esecuzioni dei 125 erano diciamo dei telaio un po' ingranditi con le ruote più grandi col motore 125 ma erano difficili da guidare questi ciclisti insomma non era si impennava ne faceva di tutti i colori perché bene o male il 125 aveva un po' più forza dell'80 non è il doppio ma no all'inizio stai ben attento all'inizio non era proprio così non c'era tutta questa differenza perché io andavo quasi più forte con l'80 che con la 125 perché queste erano molto più sviluppate molto più a posto la mia 80 da mondiale andava perché insomma erano di quelle che quanti cavalli facevi? 33 33 che erano tantissimi per un 80 il primo 125 a quanti giri? 14.5 potenza massima girava fino a 15.000 range di utilizzo 2.000 3.000 sì 3.000 3.000 te pensi che il primo 125 che ho fatto aveva 36 cavalli quindi un cazzo di più aveva più coppia aveva più coppia ma alla fine cioè si stavi a guardare il cronometro quasi quasi andai più forti con l'80 perché ci avevi la mano capito? io nel 1988 ero iscritto al campionato italiano 80 e 125 la prima mezza stagione il 125 non era pronto correvo con l'80 in mezza di 125 arrivavo nei 5 facevo la mia figura quindi la differenza all'inizio non era tanta quindi poi tu hai sempre avuto diciamo una specie di officina a casa che mi hai raccontato una volta era di là poi è arrivato no no io non avevo una specie di officina avevo l'officina di mio padre che pensava al fabbro certo però non era un'officina di moto no 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 assolutamente che però avevi la fortuna di avere tante no ma attenzione per fare quello che facevo io non mi serviva l'officina di moto mi serviva l'officina di mio padre dove c'era la forgia il tonio il trafano cioè io dovevo costruire certo 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 però comunque eri un po' limitato poi quando la cosa è cresciuta è arrivato il capannone qua perché nel 1982 là davanti per motivi di lavoro eravamo stretti per i macchinari che costruivamo cominciavi ad avere sempre più materiale sempre più materiale sempre più materiale ma questo capannone qui non è stato fatto per me per le moto è stato fatto per il lavoro di mio padre certo certo e quindi poi siamo venuti qui qui c'era più posto quindi è stato tutto tutta una conseguenza tu qua dentro poi con le macchine utensili di tuo babbo hai cominciato a fare tutto praticamente tutto infatti io vorrei che adesso andassimo giù mi fai vedere il cuore della moto cos'è? il motore e come l'hai costruito quello di oggi perché non andiamo a vedere la roba di dietro però ad oggi Gabriele Negnani dopo 30 anni con la 125 è arrivato a un livello possiamo dire stratosferico lo stratosferico no lo stratosferico non esiste perché allora non c'è più riferimento è vero non abbiamo più riferimento però un ottimo livello allora quando quando facevo il mondiale con la 125 avevo 39 cavalli a 40 cavalli mi pisciavo ad osso sullo sgabello del banco prova come fanno i cagnolini quando li accaresti della contentessa 40 cavalli e si pensava cazzo 40 cavalli 40 cavalli più di così dove vuoi andare in aeroplano in aeroplano in aeroplano oggi ce ne sono adesso ce ne sono 50 e più esatto 15 in più quindi vedi fra dieci anni se ci saranno ancora i 125 se esisterà ancora questo pianeta chissà quanti cavalli avremo quindi il fondo non c'è mai cioè la ricerca va sempre avanti quindi andiamo giù a vedere un motore a vedere un motore a vedere un motore a vedere un motore di futuro Grazie a tutti.